Buonasera, questo video per effettuare la consueta panoramica generale sulle principali piazze finanziarie internazionali a metà settimana, oggi giovedì 17 novembre, sono le 16.30, metà pomeriggio, ci avviamo verso la conclusione della seduta. Partirei come al solito dalla borsa italiana, dal nostro future Fuzzi Mib, che dopo il rally iniziato lo scorso 13 di ottobre ha avuto una pausa, una pausa che non significa momento ritracciamento, ma effettivamente per diverse sedute è rimasto inchiodato sulla resistenza del livello 24.500 senza salire, senza scendere, con una forte lateralità, con un trading range giornaliero molto ristretto e aggiungo anche molti pochi volumi. Solo oggi la giornata sembra, al breakout ribassista del livello 24.400, improntata al ribasso. Quindi, se non è un falso segnale ribassista, potrebbe essere davvero iniziato il momento del ritracciamento, non inversione di tendenza, ma semplicemente fisiologico e doveroso ritracciamento su questo mercato che negli ultimi mesi ha corso molto. Il target ribassista di questo eventuale movimento ribassista che proprio oggi potrebbe essere cominciato è il livello 23.500 che corrisponde ad un ritracciamento di Fibonacci del 23,6%. Non è la stessa cosa sul mercato tedesco, sul future tax invece, come si può vedere, qui sono ancora in formazione delle configurazioni, come dicevo prima sul mercato italiano, in trading range, in laterale, dei pattern che sono molto simili, se non proprio dei veri doji, indicanti una fondamentale indecisione da parte degli operatori, sia nell'ambito intraday che ambito daily, nel senso che il mercato non sale o non scende. È una situazione piuttosto rara, devo dire, negli ultimi 25 anni di mercato che seguo, nel quale sono operativo, mi è capitato raramente di vedere, abbastanza infrequente. Il solito però è anche altrettanto vero che sono sicuro che prima o poi questa situazione cambierà perché è insostenibile per ancora diverse sedute. Prima o poi un movimento al rialzo o al ribasso ci sarà, sarà anche un movimento abbastanza forte ed esplosivo, basta semplicemente seguire ogni volta i segnali operativi dettati dai massimi e dai minimi intraday. Prima o poi da qualche parte il mercato andrà e lo farà in modo molto veloce e grazie ad una eventuale sedie di sedute poi direzionali che saranno quelle che ci permetteranno di fare trading e anche di guadagnare sul mercato. Ribasso in vista anche oltreoceano su Wall Street, lo Standard & Poor's 500 anche oggi sta perdendo con una performance abbastanza negativa. In realtà sul mercato americano che ci potesse essere un ribasso che trascinasse a ribasso anche le borse europee c'era già un'avvisaglia, nel senso che martedì questo pattern è assomigliante, non è proprio identico ma può essere interpretato in modo similare ad uno Shooting Star, famoso pattern di analisi Candlestick, indicante una inversione di tendenza. Le quotazioni infatti già da tempo avevano raggiunto la resistenza dei 4.000 punti, non riuscivano ad andare oltre, ci sono andate proprio quella giornata martedì raggiungendo addirittura il livello 4.050 con un bellissimo spike poi sempre nell'intraday assolutamente riassorbito e chiusura sotto il livello 4.000. Questo è un pattern evidentemente ribassista che poi ha avuto ribasso ieri e oggi una accelerazione. Credo che anche qui il mercato sia improntato alla negatività dove il primo obiettivo tra l'altro molto vicino è il livello 3.900 ma anche più in basso il 3.850. Quindi l'America più debole con un ritracciamento che potrebbe avvenire ancora prima rispetto a quello europeo e ancora più pronunciato. Passando alle commodities invece al WTI il petrolio qui la situazione è abbastanza particolare perché se è vero che nel mese scorso nelle ultime settimane è stato facile fare trading oscillando sempre all'interno di un ampio trading range di 10 dollari a barile tra il livello 82 e 50 per cui era facile comprare sul supporto e vendere sulla resistenza e così via ma tutto questo avveniva finché i prezzi rimanevano al di sopra dell'indicatore super trend che in un certo senso faceva anche da supporto un po' da lontano ma lo faceva. Adesso le quotazioni invece stanno nuovamente tornando verso il livello 82 e 50 ma non sono più sicuro che su questo livello i prezzi possano rimbalzare perché in realtà a 83 e 50 dollari a barile qui vi sarebbe la rottura ribassista dell'indicatore super trend che porterebbe il mercato in realtà molto più basso e farebbe uscire le quotazioni da questo ampio e lungo per durante trading range. Quindi la strategia da adottare a questo punto è di non guardare neanche il super trend ma continuare a guardare il livello 82 e 50 che questa volta diventa davvero un livello sensibile. Non si entra più lungo a occhi chiusi come abbiamo fatto in precedenza ma se dovesse essere violato al ribasso e trovandosi di conseguenza anche al di sotto dell'indicatore super trend a quel punto il breakout è ribassista e si entra in posizione short. Quindi prepararsi per un eventuale short poi se 82 e 50 in realtà rimbalza meglio ancora riprendiamo diciamo così il giochino il meccanismo la strategia già adottata in precedenza però attenzione perché questa volta è l'82 e 50 è meno facile del solito. Per quanto riguarda l'oro invece l'analisi effettuata la scorsa settimana si è rivelata assolutamente corretta il mercato e la al rialzo avevamo dato indicazioni che al superamento del livello 1738 bisognava entrare in posizione long esattamente come ho fatto io e l'avevo anche detto basta andare a vedere la registrazione passata. Sono ancora in posizione l'auto guadagno adesso sta un attimo ritracciando ma mantengo questa posizione long in essere soffrendo un pochettino per questo ritracciamento tra l'altro fisiologico prese di fine beneficio assolutamente normali perché sono assolutamente convinto che l'obiettivo rialzista di questo movimento sia quota 1800 e quindi lo aspetto là in alto a 1800 non dico che ci arrivi domani o neanche durante la prossima settimana ma entro due settimane effettivamente se il ritracciamento si esaurisce la corsa al rialzo dovrebbe continuare. Quindi diciamo che al momento rimango un attimo nel limbo perché il target rialzista di questo movimento ancora non è stato raggiunto e non ho ancora perso le speranze che lo possa raggiungere. Infine uno sguardo al mercato valutario è principe dei cross l'euro dollaro anche qui l'analisi che avevo effettuato la scorsa settimana è risultata corretta perché il mercato ha continuato a andare al rialzo. D'altro canto il buon dato giovedì scorso sull'inflazione farà sì che molto probabilmente il prossimo rialzo dei tassi di interesse da parte della Fed sarà solo dello 0,50 rispetto allo 0,75 previsto in precedenza mentre invece la BCE dovrà continuare ad aumentare i tassi di interesse a ritmo di 0,75 per cui il differenziale si riduce e per cui effettivamente c'è un avvalorarsi dell'euro rispetto al dollaro che quindi si deprezza leggerissimamente. Ovviamente i discorsi appena fatti riguardano un tempo un po' più lungo nel senso che le prossime decisioni che ho adesso annunciato avverranno a metà dicembre il 14 e 15 dicembre quindi manca ancora un mese e da qui a un mese facciamo in tempo a fare tutto il trading intraday che vogliamo questo è vero però diciamo che il percorso in un certo senso è segnato e se questo è il discorso macro tra virgolette che c'è da fare è chiaro che il dollaro in questo periodo non dovrebbe apprezzarsi più di un tanto quindi eventualmente potrebbe ritracciare a 1,025 potrebbe anche ritracciare a 1,025 però in realtà dovrebbe rimanere lì dove è anche con qualche invece a lungo al rialzo dell'euro che potrebbe anche riraggiungere e rilecuperare come ha fatto martedì il livello 1,05 andare anche oltre o comunque stabilizzarsi lì ecco tra un long e uno short francamente sono più convinto di un long quindi direi che è privilegiata e da privilegiare l'operatività long perché in questo momento è l'euro dollaro quello che tira è l'euro quello che si dovrebbe apprezzare di più rispetto al dollaro in previsione delle riunioni delle banche centrali di metà dicembre per cui è l'euro che dovrebbe più probabilmente salire verso 1,05 1,06 piuttosto che scendere verso la parità che al momento vedo molto lontana e molto indecisa anche perché passa l'indicatore super trend che fa da supporto quindi se la domanda di molti è tornerà verso la parità giochiamo attorno alla parità credo di no perché le banche centrali in questo momento sono posizionate in un modo diverso e andranno a posizionarsi anche nei prossimi mesi non solo dicembre ma anche gennaio in modo diverso dove dovrebbe esserci un aumento maggiore dei tassi di interesse e di conseguenza apprezzamento della valuta sulla banca centrale europea quindi sull'euro rispetto al dollaro quindi euro dollaro in salita nel medio lungo termine io vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alla prossima analisi della settimana avventura buon trading a tutti